L'assenza di risorse sui piani sociali di zona rischia di mettere a repentaglio la sussistenza stessa dei servizi agli anziani, ai disabili e ai non autosufficienti da parte dei comuni. È inaccettabile che le risorse siano ferme al 41% del 2022. Si provveda a saldare le annualità mancanti o sarà mobilitazione. E questo è il monito lanciato dal segretario generale della SPI CGL di Basilicata, Angelo Summa, che si è fatto promotore di un appello al mondo del welfare, della cooperazione sociale e del terzo settore. È necessario, ha sottolineato, scendere in campo uniti affinché vengano tutelati i diritti delle fasce più deboli. Tra i rischi più concreti dell'attuale situazione denunciata dal segretario dei pensionati lucani della CGL vi è anche quello che riguarda la condizione dei centri socioeducativi per persone con disabilità oltre l'età scolare. In questo quadro di ritardi e totale assenza di programmazione rientra la mancata adozione dei regolamenti per l'accreditamento delle strutture deputate a garantire l'assistenza domiciliare nonostante i fondi messi a disposizione dal Governo nazionale, ha evidenziato Summa, che ha poi aggiunto come occorre cambiare il modello di sviluppo sociale se si vuole invertire la curva. Bisogna costruire da subito interventi concreti con risorse adeguate per garantire il giusto diritto di assistenza ai circa 60.000 lucani non autosufficienti. Investire dunque in welfare, servizi sociali, assistenza e asili nido è questa, in conclusione, la strada da intraprendere per garantire diritti e cure ai lucani, secondo Summa.